Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna è stata riaperta la tratta incisa Reggello-Firenze-Sud, chiusa durante la notte per lavori programmati. Si raccomanda la massima prudenza per la presenza di personale di servizio in strada. In Fipilini, entrambe le direzioni, possibili disagi e rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. La strada statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, Massa Carrara, in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze, in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta. Chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. Per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico, ricordiamo a tutela della propria salute l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi, mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri utenti e lavare e disinfettare spesso le proprie mani. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!